Io essendo arrivato al livello 20 ho la missione mia della mia storia e ce l'ha anche Sarkaz vedo però prima di fare la missione della storia volevo fare la missione che io ho un oggetto nell'inventario una pergamena che mi occupa anche spazio e mi dice che devo parlare con questo tipo qua io inizierei facendo questa questa missione qua così mi libero anche lo spazio nell'inventario questo tipo qua allora si si è qua I found this code message do you know anything about it miei famigliari è utilizzato dai criminali vabbè lo vuole rispezionare ok praticamente praticamente mi ha dato un ok mi ha dato praticamente è un messaggio di alcuni leader e bandite dovremmo andare a intercettarlo voi ci avete parlato sì in basso a destra della diga penso che sia una diga e vabbè facciamocene tutte andiamo da andiamo in ordine c'è qualcuno che c'era più vicino di me non penso a quanto capito a meno che bisogna andare dall'altra parte no forse si può costeggiare c'è gente bella questa palude da che parte è però lui no lui però è dall'altra parte e la so dobbiamo salire secondo me aspetta un attimo di qua di qua di qua c'è qua un albero ecco lo vedo the threat group event tra l'altro di gruppo secondo me basta andare in uno aspetta aspetta qua com'è ma com'è non si può saltare fino a l'albero no scendete ah è lì guarda lo stanno già menando il mio dinosauro mi sta lo sta nominando vick the iron questo che cazzo vuole ma io il problema è ancora una situazione sovieto adesso no che male che l'ha fatto ma muoio o qualcosa Fabi sei dalla parte sbagliato oi che te oia che male e no ma è mi sa che aspettate la donna se è forte aspettate infatti è gruppo e vento vai c'è droia è solo lo spirito vai c'è un altro ho pochissima vita non riesco a curarmi mi nascondo dietro l'albero mi nascondo sto morendo sto morendo io sto morendo mi sono curato leggermente ma morirò ma di noi nessuno cura mi fa cura non so dove sei c'è casino non so voi ma non ci capisco di cazzo no più che altro è che correre sempre in giro non riesco ad avvicinarmi ok muoio ti morire che bocca che mi ha dato no veramente c'è un'altra c'è la guardia mi ha ribaltato la guardia qua beh ma la guardia mi sa che ma c'è la guardia mi ha dato ma c'è la guardia mi ha dato ma c'è la guardia mi ha dato però c'è la prima volta mi ha cacca puttato mi ha dato un altro encoded order come quello di prima senti andiamo alla città di township of claypool io la più vicina al waypoint che ho è offchard waypoint se non sbaglio quello di fabio è di sotto sul mare a sud ok forse che dobbiamo non scendere mi sa che no no aspetta scusate uscite da qua non si vede un cazzo sempre in mezzo in mezzo alle pesche ma scusa come cazzo si passa oltre devo salire qua anche io mi butto giù dalle mura buttiamoci giù dalle mura ah no ma è tutto chiuso no sai che mi sa che ha che sexy il tuo perché non faccio quella roba che va ancora più si si fate cambiato un po' il bioma effettivamente qua? a sud o a... no io andrei ancora di qua però dobbiamo andare comunque verso il mare non sono vero sto banditi eh no non è di qua non è di qua è l'altra via guarda la mappa è l'altra via ah intanto si attaccano ah no si attaccano non ho non ho dovresti percorrere un centri uom i due ci sono i orsi system seguendo il orsi uom c'è che stanno seguendo il orsa se stanno seguendo il nostro Ecco la coppia! Scusate! Mi piace questa zona più dell'altra! Eccolo! Che paura mi ha fatto da manna! Beh, volevate qualcosa di difficile di... No, io sono un DPS medico! Sì, ma non gli facciamo un cazzo! Dov'è che sei? Com'è che ti si gressa? Vai, io lo sto distraendo, che state davide! No, io so che si stendo abbastanza, poi mi avete togliere dalle palle il suo amico! Guarda qua, c'è neppi di una! Eccolo! 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 Non è che sei un'altra! E io ho tre guai di qua! No! Mi ha ucciso! E' un po' complicato questo! Che dite? Andiamo su quello di Davide che è buc' No, no! No, aspetta! L'abbiamo iniziato! Sono stati uguali poi! Aspetta, ti provo a restare! No, non posso! Mi ha... No, no! E' fattibile ma sciottata! Vai perché dovete uscire dal raggio eh! Dovete uscire dal raggio rosso quando lo fa! Esatto! Fatti in un modo! Vai, sei fermato, sei fermato! E' sfumato, è sfumato! No! 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 Io sono andato giù! No! Sono andato! Ma ci sono le guardie di merda! No! Buoglio! No! Ma è vulnerabile! Cioè io gli tiro la magia e lui me la rispara indietro! Raga! Sai cosa? Finché fa sto giro qua piuttosto... Io uccido le guardie! Minha, 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 minha! Vai vai vai! Buongiorno! Vieni la bella! Buongiorno! Poi, va vai! Buongiorno! Tornato a fare avanti e dietro! Ma è successo! Vai coca e fai mo! ok è arrivato è arrivato troppo tardi che fatica il problema è quello di Davide che non ho idea di come arrivare là beh adesso siamo vicino e ho capito dove lo sta però è una zona anche quella è una zona 15-25 dai andiamo più amare bellissimo però no ecco non ho fatto come ho fatto io io sono io sono morto io ho ucciso il re ti restami io sono morto a scendere giù a me è morto il coso l'armai l'armai con la morte è morta la morte cioè sentiego infatti non sono andati giù con il sentiego comunque di qua dobbiamo andare fermati aspetta prendete voi il point qua sotto qui eccolo ho trovato ho trovato andiamo andiamo prima che ci ammazzi e ammazzi solo lui fissati a questo dove sei? eccola qua madonna quanta gente guarda se ne spacciati già in fai tenza guarda se ne spaccino allora Non c'è un po' di fase Che è che mi è uguale che sto cittando? Eh Ah, e sei morta te Sì, ha un po' Ah, ma c'è una buona è qua Ma comunque se schiacci i cosi a caso così che sono usciti da solo Quando c'hai fight to survive No, adesso no, adesso sono proprio return to waypoint È arrivato un aiuto Sì, ci sono altri giocatori, credo, a quello che vedo Vuoi morire? Oh Oh, morta Ok Mi è arrivata la medaglia, perfetto Vi va a far fuori gli altri guardi Vai qui, andiamo alla tua Allora dobbiamo Dobbiamo superare Ognuno, i soldi qua che I banditi qua sparano E di questo Queste montagne C'è il sentiero qua nord Eh sì, però, guarda Provo a vedere Ma non è che è un'altra zona ancora il tuo È presidiato Eh, un citiamo di tutti Eh, dai Le palle sto coso Un citiamo di tutti Oh, ma questo c'ha un coso Un po' È in serio Cos'è che ha? È un kamikaze Si fa brillare Sì, si fa scoppiare Ah, ci sono da luttare Oh, devo a tracare dei documenti Eccola la Eccola la C'è un'aurea Sì, occhio all'aurea infuocata Che è tipo Questa Aia È tutta indietro Ha tipo un campo di forza Non si può afficcarla Aia, che male Non mi riesco neanche a curare No, no Questa Questa mi ha Questa percato Ma è una delle più forti Questa roba Oh, ok Dovevo prenderlo Ma Ma Questa è una specie di pala Che può benedire il terreno Magari ti potranno Non so se avete visto Ehm, io devo capire come ritornare lì Ehm, io non c'ho Doveva essere Ehm, io devo capire come ritornare lì E' anche io uguale Ah, è vulnerabile mentre quella specie di linea Q è broken E' nessun Una volta che la linea Q è carica Bisogna che qualcuno mi curi No, cazzo, l'ho preso in pieno Affanculo Ehm, io ho solo disco E' tornato a waypoint Dov'è il waypoint? Aia Ehm, no Me l'ho incasteato Ho trovato uno io Con il waypoint, vai Però adesso è invulnerabile Ci vuole Evo Forse Ehm No, andate Adesso ci vuole No, ok Cazzo ci sono questi Di chi sono questi scorpioni? Ah, c'è qualcun altro qui adesso Che ci sta aiutando Ah, ok E' normale che volete Ma che ti fa quel tanto Perché ti toglie la barra? Lo so Ehm Non so se quando l'ho colpito io Con qualcosa Io adesso sto usando Delle abilità che mi fanno appicziose E' un po' di tempo Ah, non si apre 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 No, come fai? Tu so, guarda A me sono neanche accorto Ok, sono rivissuto Mi posso più già per morire Perché è brutta morte Ok, non morito Mi sono guarito Ok No, restami Ok, ci sono, ci sono Eh, no, sono morto pure io Ma dai Dovete uscire Uscite dal fuoco Eh, sono morto anch'io Aiuto Ok, quindi l'abbiamo fatti tutti Cercano nella descrizione De Cian's Break Comunque vi do Vi do una brutta Vi do una brutta notizia Se quando voi Quando avete ucciso Il vostro tipo Vi ha dato un altro A pergamena Se guardate E di dici di andare A uccidere l'altro Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ho, ha, 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 ha